Grazie. L'impegno costante di questa amministrazione è sicuramente stato quello di mantenere viva e presente la memoria della Shoah e dello sterminio programmato di 6 milioni di ebrei e delle dinamiche che hanno portato questi eventi storici. Anche promuovendo attività formative diffuse non solo all'interno della struttura dedicata di cui stiamo parlando oggi, in attesa che venga realizzato il Museo della Shoah, ma anche all'interno di tutti i territori municipali per il quale si sono promosse diverse iniziative proprio per consentire e contribuire alla promozione e alla diffusione di quelli che sono i valori dell'uguaglianza, della pace dei popoli, con l'affermazione di quello che è il principio della fratellanza, dell'accoglienza, delle diversità contro ogni forma di razzismo e discriminazione tra gli uomini. Come dicevano i miei colleghi, ringrazio con l'occasione il Vice Sindaco e i colleghi dell'opposizione, con cui si è portato avanti un dibattito proficuo anche in sede di commissione. Con l'approvazione di questa delibera rinnoviamo la concessione alla fondazione del Museo della Shoah Ollus, che avrà appunto in gestione lo spazio della Casina dei Vallati per altri tre anni. Una soluzione temporanea in attesa che venga costruito il nuovo museo della Shoah, il cui diritto appunto scade il 31 dicembre che sta arrivando. L'opera museale, da quanto è emerso in sede di commissione, si trova ormai nella fase di verifica del progetto esecutivo dell'appalto integrato. Comunque sicuramente noi continueremo a seguire anche questo tipo di progettualità e comunque le alternative possibili. Come amministrazione capitalina riteniamo appunto necessario e doveroso continuare a dare alla fondazione la possibilità di svolgere le proprie attività che sosteniamo e favoriamo per mantenere appunto viva la memoria e promuovere appunto la tolleranza religiosa, sociale e culturale. Per questo voteremo sì e sono sicura che come già avvenuto in sede di commissione ci sarà occasione di riscontrare un voto unanime anche in assemblea. Grazie a tutti.